Quinta giornata di Serie D regionale, in cui si affrontano Solofra e Rocca Rainola Basket, entrambe a 0 punti finora e con tanta voglia di portare a casa la prima vittoria stagionale. Rocca inizia alla grande il match con l'approccio giusto e ritmi molto alti che sorprendono i padroni di casa, che subiscono subito un parzale di 8 grazie ai colpi di pace del basso Iovino. Solofra è netta difficoltà e prova con due tiri liberi a diminuire lo svantaggio, ma Rocca va più 11 a metà quarto. Cerullo piazza una bella tripla a 3 minuti dal termine del primo quarto. Solofra si affida solo a tiri liberi per la rimonta e a qualche contropiede sporadico, del basso prima con uno splendido tiro da 3 e poi pace sotto canestro, chiudono il primo quarto sul 30 a 12. Il secondo quarto è più equilibrato, con entrambe le squadre che ribattono colpo su colpo. Solofra è entrato in campo con maggiore consapevolezza e convinzione e costringe Rocca a subire due contropiedi. Solofra fallisce due tiri liberi, ma realizza due rimbalzi. A metà quarto siamo sul più 12 per Rocca. La partita a questo punto diventa agonisticamente molto combattuta e giocata a ritmi frenetici. Rocca sbaglia troppo dal campo e questo fa sì che Solofra recupera i punti portandosi a meno 9. Negli ultimi due minuti, però, Rocca gioca come nel primo quarto e aumenta le distanze andando sul 43-28 con cui si va all'intervallo. Nel terzo quarto il match continua ad essere molto intenso. Capitano Napolitano realizza tre rimbalzi e del basso un tiro da due che porta il roster ospite a più 22. A metà quarto Rocca è in difficoltà e tenta giocate personali che non vanno a buon fine e così Solofra, galvanizzato, si porta sul 41-58. Grazie a quattro tiri dalla lunetta Rocca si riporta con un parziale di 20 e va all'ultimo quarto sul 63-43. Nell'ultimo quarto Solofra cerca la rimonta e Rocca gestisce e contrattacca. Pace e Napolitano, uno dei migliori della partita, realizzano due tiri dalla lunetta che tengono Solofra a distanza di sicurezza. La voglia e la tenacia dei padroni di casa non basta. Il match termina 80-68. Prima vittoria stagionale per Rocca Rainola che dà una boccata d'ossigeno importante agli uomini di Coach Licuori. Prossimo appuntamento domenica in casa contro Marigliano. Prossimo appuntamento domenica in casa contro Marigliano.